Allora, aspetta. Perfetto, allora, adesso siamo ufficialmente in diretta. Ok. Sulla pagina di Dramord e vediamo se già mi dà la live, così la condivido e poi possiamo tranquillamente partire. Ok. Eccoci qua. Già me la dà, perfetto, così la posso subito condividere. Così intanto diamo tempo a qualche amico di raggiungerci. Va bene. Ah, ecco qua. Perfetto. Ok. Sto condividendo tra poco, ti dovrebbe arrivare il tag, così possiamo partire. Per gli amici che si stanno connettendo, ragazzi, veramente pochi secondi e partiamo. Ok, molto bene. Ecco, mi è arrivato. La condivisione c'è, quindi direi che possiamo tranquillamente iniziare. Quindi, amici di Dramord, buonasera a tutti. Eccoci qua con un'altra diretta, un altro appuntamento con uno stimato collega della scena italiana. Questa sera abbiamo Mark, batterista degli Exilia. Benvenuto, Mark. Buonasera a tutti. Grazie a te, Emiliano. Buonasera a tutti. Buonasera averti qui. Anche per me, moltissimo. Allora, questa sera ho intenzione di farti un po' di domande, soprattutto per scoprire quello che diciamo è il tuo percorso batteristico. Quindi, la mia prima domanda appunto è, come nasce Mark, batterista? Cioè, come ti sei innamorato dello strumento? Quali sono state le prime influenze e come hai iniziato il tuo percorso? Allora, partendo in ordine cronologico, diciamo, quando avevo 13 anni, io ho mia sorella che ha 8 anni più grande di me, ok? E ai tempi, a differenza di adesso, tutti i ragazzi, diciamo, avevano la band e suonavano, suonavano, suonavano. E quindi cosa facevo? Io andavo dietro a lei e magari si andava dentro nelle sale prove, eccetera, a vedere gli amici che suonavano. All'inizio io volevo suonare la chitarra, ok? Quindi mi ero preso un attimino, stavo facendo i primi metodi, insomma, diciamo, sono sempre stato appassiato. Cioè, il mio genere, le mie band, diciamo, proprio che mi hanno sempre catturato fin dall'inizio, sono stati i Black Sabbath, Ozzy, Guns, e quindi, sai, tutto questo mondo chitarristico molto, come si dice, virtuoso, ok? Però, in quel fatidico giorno, ero dentro di sala prove, e vabbè, io pistolino, piccolino, eccetera, i ragazzi fanno, vabbè, noi facciamo una pausa, ci andiamo a bere una birra, ci fumiamo una sigaretta, e il batterista mi fa, guarda che se vuoi, sceliti sulla batteria, non c'è nessun problema, prova, fai, vedi tu, insomma, perché io stavo dentro. Uè, mi sono seduto sulla batteria, non sapendo far niente, ovviamente, basta. Da lì è stato amore a prima vista, insomma, diciamo. Mollato la chitarra, eccetera, sono tornato a casa, ho detto, no, io voglio suonare la batteria, e sono uno tra i fortunati che è stato molto sostenuto dalla famiglia, in questa passione, e quindi mio padre subito, cioè, faceva il camionista, la settimana dopo, mi sembra, è tornato a casa, mi fa, guarda che ho visto una batteria in vetrina in un negozio di musica, ma io ancora non sapevo fare nulla, cioè, proprio zero, avevo solo espresso il desiderio di voler suonare la batteria. Beh, fatto sta, andiamo in questo negozio, io ovviamente per me è il mondo dei balocchi, guardo questa batteria, una Tama Rockstar che ho ancora, ce l'ho qua nella mia accademia. Bella. Sì, 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 proprio quelle anni 90, fine, inizi 90, insomma, diciamo, quelle per farti capire nei video di Paradise City, dei Gans, eccetera, cioè, quei fustoni lunghi, grossi, e mi guarda e mi fa, ti piace? Sì, non sapevo nulla, cioè, poteva essere la batteria più bella del mondo, la più schifosa, cioè, proprio non sapevo niente, però la guardavo, per me era oro, e io faccio, va bene, a me piace, va bene, comprata, presa. Me l'ha montata in camera, fa, io adesso ti devo preparare una stanza per poter suonare, eccetera, tu te la monti, te la guardi, eccetera, e quindi ho fatto i primi tre mesi ad avere la batteria in cameretta, la guardavo e basta, la pulivo, la toccavo, la studiavo, facevo, e da lì basta, è partito tutto. Poi ho iniziato a prendere, mio padre mi ha fatto la stanzetta, ho iniziato a prendere lezioni da un ragazzo privatamente della zona, un po' di lezioni con lui, un po' da autodidatta, e dopo, verso i 18, lì mi è proprio scattata la scintilla, che ho detto, proviamoci, mi piacerebbe farlo come mestiere. Quindi, finito le superiori, ho incominciato a lavorare, facevo il meccanico, e nel frattempo ho conosciuto, cioè mi hanno dato il nome di Sergio Pescara. Ah, grazie. Ok, super, super, lui, Sergio è numero uno, come persona, come musicista e come didatta, cioè veramente top. Sono arrivato, insomma, l'ho chiamato, eccetera, per fare l'audizione da lui, andare da lui, e sono arrivato e praticamente mi è rimasta nel cuore questa cosa, perché lui ha un look spaventoso, e quando l'ho visto mi sembrava buon giove, ho detto, madonna, fantastico, sei tutto questo mondo hairstyle, eccetera. Vabbè, insomma, sono andato giù, ho incominciato, basta, da lì, diciamo che la mia vera formazione me l'ha data lui, me l'ha data Sergio. Ho fatto un po' di anni con lui, dopo sono andato da Tuglio, da Tuglio di Episcopo, e praticamente i miei due insegnanti fondamentali sono stati loro. Sergio, proprio su tutto, con Tuglio ho fatto due anni, e lui è proprio l'attitudine che c'è da prendere da Tuglio, il modo che ha di suonare, le cose che fa, come si può dire, cioè non è tanto la tecnica che c'è, ma non è tanto quello che uno deve andare a prendere, cioè secondo me, quando si va da questi mostri sacri, insomma, diciamo, dello strumento, devi arrivare, cioè io ero arrivato con le spalle grosse dopo anni di studio con Sergio, ok? Quindi, cioè, avevo già le coordinazioni, ero già slegato, mi aveva fatto vedere le indipendenze, gli stili, e tutto, quindi quando tu arrivi, che già dalle spalle grosse di formazione, arrivi da Tuglio di Episcopo, cioè ti interessa prendere il suo modo, cioè il cuore che ci mette nel fare le cose, dove mette il passaggio, come mette quel passaggio, non è che vai lì a prendere, non so, come fai l'1 a 1, come fai il 2 a 2, E' l'attitudine, l'essere batterista. E' l'essere batterista, e ti dico tante cose che ho visto con lui negli anni successivi, quando mi capitava di fare qualcosa, o in studio, live, o anche insegnando, i ragazzi dicevo, che lui intendeva questo, cioè ci sono arrivato su tante cose, ci arrivavo dopo, cioè ci sono arrivato a posteriori, lì le facevo, l'esercizio, ok, tutto a posto, però il significato di quello che dopo lui diceva, io su tante cose ci sono arrivato a posteriori, cioè rifacendolo dicevo, ecco perché, ecco perché è lì, ecco perché è così, e quindi diciamo che questa è stata la mia formazione, non sono, ti dico, sono un batterista molto istintivo, di groove, beh, poi è da anni insomma che faccio questo genere, sono 13 anni che sono con gli Exilia, diciamo che mi sono abbastanza perfezionato su questo, specializzato, specializzato su questo, ovviamente, come ti dicevo, ho il background di tutti gli stili, eccetera, però diciamo che se c'è una serata buca di un batterista di un quartetto jazz, non sono la persona giusta da chiamare, mettiamola così, ok, e quindi io, diciamo che, essendo partito anche un po' tardi, a voler suonare seriamente, ho dovuto fare i conti con il dover me la giocare in giro, per incominciare a prendere gig, per incominciare a prendere serate, diciamo, e quindi, cioè io andavo a mira, mi facevo le routine di dire, mi serve questo perché devo fare questo, allora faccio questo lavoro qui, non spaziavo tantissimo, cioè su tutte le cose, magari aggiornamenti, però provo a fare questo, provo a fare quello, io voglio fare questo, devo arrivare a andare a fare quello, e quindi mi preparo su queste determinate cose, capito? e quindi diciamo che è stato quasi un po' subito un approccio lavorativo proprio, cioè anche nello studio. Sì, sì, ok, della serie, quello che studio mi deve servire per fare quel tipo di lavoro, quindi come dico prima, ti sei specializzato indirizzando esattamente tutte le tue risorse su quello che poi ti sarebbe effettivamente servito, che non è un ragionamento sbagliato, o anzi? No, vabbè, sai, poi, come si può dire, cioè io reputo sempre che ci sono due tipi di persone, insomma, sullo strumento, ok? A mio parere, ci sono le persone baciate dal Signore, quindi tu le siedi sulla batteria, gli metti in mano una chitarra, insomma, fai qualcosa, questi incominciano, e dici, e chi gli era dette queste cose? Ci sono dei bambini di 9 anni che incominciano a suonare, e dici, sì, va bene, sarai avvantaggiato per la famiglia, ti hanno comprato tutto, sei dall'insegnante più bravo del mondo, ma a 9 anni uno che cosa ti può dire? Cioè, nel senso, se non incominci che vedi che suoni così, quella è una cosa che ti è arrivata dal cielo, cioè, secondo me, poi questo è il mio modesto parere, cioè, non c'è nulla da fare. Io, non ritenendomi oggettivamente uno che si siede e dice, allora, madonna, è questo qui, che cos'è? Cioè, mi sono dovuto fare parecchio sedere, cioè, nel senso, per incominciare ad entrare nel giro, insomma, diciamo, nel fatto delle conoscenze, di farsi vedere in giro, anche perché quando ho incominciato io la, diciamo, la mia gavetta, non c'erano i social che uno incominciava a farsi video, li postava, che da una parte uno dice, sì, adesso sono tutti nella loro cameretta a farsi video e tutto quanto, però dall'altra, come stavamo dicendo prima, è un buon modo per farsi conoscere, ok? Cioè, puoi avere i tuoi biglietti da visita, ok? Poi, chiaramente, devi essere preparato anche su altre cose, perché ti devi fare il suono giusto, il video, l'inquadratura, eccetera, eccetera. Però, tornando a me, io andavo in giro per le gym session, però le gym session, cioè quelle vere, non quelle, secondo me, farlocche che tu arrivi, prenoti il brano, vengo e suono switch, I don't mind, vai su e suoni quello, cioè la gym session, quella che si faceva alle scimmie, si sale e schia, si sale e vai, incomincia a gemmare, ok? E da lì incomincia a vedere che, quanti cassettini puoi aprire in base a quello che devi suonare, ok? In base a quello che tu hai interiorizzato, e quindi me le giravo un po' tutte, hai capito? Non solo quelle rock, andavo proprio a cercarmi anche le cose, tipo jazz, fusion, andavo alle scimmie, sono andato al, che adesso purtroppo questo locale è chiuso, non mi ricordo più come si, comunque sono andato in un posto una volta, se ti racconto sta cosa, mi sono preso di quegli schiaffoni, perché il mio trip era lo swing, ok? Cioè era il momento che ero con Tuglio, poi prima di entrare nelle XI, insomma, ero stato preso anche al conservatorio di Como, il Verdi, ho detto, cazzo devo imparare, devo arrivare lì, perché devo essere già un bello sul pezzo, su questa cosa, no? E allora giravo tutte queste gym session, no? Per andare a vedere tutto, una sera ho detto, ma sì dai, alzo la mano, provo a salire anch'io, qualcosina la sapevo, sono salito, suono uno standard, faccio per scendere, c'era il bassista, mi guarda e mi fa, oh, non venire più a suonare, se vuoi, vieni ad ascoltare, beviti una birra, ma non salire più sul palco, finché non impari, cioè, ma io ero già anni che studiavo, però non mi ero mai specializzato su quello, ma che schiaffone, sì sì di brutto, però secondo me quelle cose lì sono quelle che, cioè ti tengono con i piedi per terra, e ti mettono alla prova, cioè io l'ho sempre vissuta come sfide queste qua, capito? Però poi molte di queste persone, sono quelle che mi hanno portato, ad entrare nel giro, che se qualcuno doveva aver bisogno, gli arrivava il mio numero, sì sì, ok? Tant'è che è così che sono entrato negli exilia, a furia di girare, eccetera, suonare, suonare, e suonare, e facevo un po' di tutto, anche perché, scusa, faccio un passettino indietro, cioè con Sergio, la cosa bellissima che lui mi ha trasmesso, e quella che secondo me mi è rimasto di più, è il funk, ok? Cioè se tu vuoi far funk, devi andare da lui, se vuoi far tutto devi andare da lui, ma maggiormente, con quell'attitudine lì, con l'indirizzo lì, cioè lui è spaccato, infatti, mi sono subito sposato bene, con l'attitudine exilia, con i groove exilia, perché? Perché nel new metal, alla fine, uno che cosa va a fare? Mischia il funk con il metal, ok? Esatto. E quindi molti groove, cioè hanno tutti quel portamento lì, capito? Sei in mezzo sciaffolato, poi ovviamente sei tirato, con la pacca, eccetera, però l'attitudine è quella, se tu non metti quella cosa lì, quel mezzo straight shuffle, non suona niente, cioè non ha groove, e secondo me è una cosa che va un po' dappertutto, cioè se tu ascolti un po' tutti i brani, è come quando, cioè sicuramente poi, anche tu lo saprai, da batterista, da didatta, cioè pensare alle cose in levare, è un'altra cosa, cioè ti apre un altro mondo, suoni diversamente, ma tutto. Sì, assolutamente sì. Guarda, proprio perché hai parlato di andamenti funk, facendo riferimenti a New Metal, io ricordo che quando ho scoperto i Limbitsky, ci sono rimasto. Perché il batterista, e dicevo questo, ma come cacchio suona? Da paura, cioè lui è... Era il periodo in cui io poi stavo prendendo le prime lezioni di batteria, e mi feci di fronte copiare un cd da un amico, lo portai a lezione, e disse il menzionante, io ti devo far sentire questo qua come suona, perché questo qua fa metal, ma non è metal. Io mi disse, beh beh fammi sentire perché io così non capisco. Posso sentire qualche brano e mi fa? Dice, beh, e dice la pacca è metal, ha detto, però qui la base è totalmente funk, ha detto questo viene dal funky. Eh sì, è molto figo anche cazzo, Gio Notto è una roba mondiale, cazzo. Mondiale, mondiale, mondiale. Fa un tiro, porca miseria, cioè ecco, è proprio il caso di dire, è quel batterista che quando lo metti a suonare con la band, stai sicuro che sotto palco la gente o salta o muove la testa, è garantito. Esatto, 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 che è la cosa fondamentale che dicono sempre, o per lo meno, a me mi hanno sempre detto, fa, oh, se tu non vedi le persone che muovono il culo quando stai suonando, c'è qualcosa che non va, cioè nel senso non stai suonando bene. Sì. il groove non, c'è qualcosa che non rotola bene. E, e quindi questo, c'è capito, mi hanno, tutte queste esperienze qua, andando a cercare in giro, eccetera, hanno fatto sì che, ai tempi, con un collaboratore degli Exilia, loro dovevano partire per la tournée con i Drawing Pool in America, e erano rimasti a piedi con il batterista e il chitarrista, e è arrivato il mio numero, mi hanno chiamato a luna di notte, questo collaboratore mi fa, guarda che, Masce è rimasta a piedi, io lavoricchiavo sempre un pochettino, ho capito, cioè per tirare su soldi, eccetera, e gli faccio, se c'è di bisogno, fammi vestire un attimo e vediamo che cosa c'è alla macchina, gli ho detto, vengo a vedere, gli ho detto, e lui mi fa, no, ma così hai capito, mi fa, è rimasta a piedi, con la band, ho capito, tu hai omesso la band, io faccio anche questo, e quindi ho pensato a quello lì, no? Ma no, 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 è rimasta a piedi con la band, c'è da partire tra una settimana per l'America, ti do la scaletta, te la giro domani mattina, per te domani per le sei, ti va di venire a fare il provino? Subito, va bene, cioè proprio presi pronti via, no? E quindi che cosa ho fatto? Nulla, lui appena mi ha girato tutti i pezzi, mi sono chiuso nella mia saletta che avevo i tempi, un box scrauso con le perdite, eccetera, la solita cosa, insomma, underground che hanno passato tutti, mi sono messo lì, ho studiato, mi sono scritto le mie chart, ho fatto le mie cose, eccetera, sono arrivato al pomeriggio per fare il provino, insomma, ero il primo, per fortuna, perché magari arrivava qualcuno che era più fico, e prendevano quell'altro, quindi ero il primo, mi è andata bene, sono entrato nella saletta, io sono arrivato sempre prima, sono un tipo abbastanza puntiglioso con gli orari, con la precisione, eccetera, quindi sono arrivato ben prima, mi sono cambiato, mi sono preparato, ho preparato il leggio, cioè sembrava che dovevo andare a fare, con l'orchestra sinfonica, c'avevo la mia cosa, eccetera, e tutto, in realtà era metal, e niente, incominciano ad arrivare, arriva il produttore, ciao, piacere, è una tour manager, bassista, il chitarrista, mai conosciuto anche lui, era la prima prova che faceva il provino anche lui, arriva anche Masha, diceva, piacere, grazie per l'opportunità, mi fa, tu suona, e poi parliamo, a posto, va bene, gli ho detto, allora, ci mettiamo dietro, attacchiamo, suoniamo, ok, va bene, secondo brano, ok, a posto, va bene, dai, ti facciamo sapere, ti diciamo, adesso vediamo anche con gli altri, da che era vuoto il posto, faccio per uscire fuori, una coda della madonna di batteristi, ho detto, vabbè, senti, io ci ho provato, ho fatto del mio meglio, l'importante è sempre il percorso, si dice, uno ci prova, basta che dai il massimo, e poi vedi come va, vado, vado dalla macchinetta, mi prendo un caffè, faccio per accendermi la sigaretta, torno su, vedo che esce fuori il produttore dalla porta, che fa, va bene ragazzi, siamo a posto, abbiamo trovato, tutti a casa, ho detto, madonna, sento che, mi fa, senti, vieni qua un secondo, mi fa, tu a passaporto come sei messo, gli faccio, guarda, vado adesso a farlo, gli ho detto, perché non ce l'ho, cioè io ho fatto dall'oratorio, alle cose super fighe, praticamente a suonare, no, e va bene, dai, senti, domani mattina, prove alle nove, e tra una settimana si parte, e basta, e da lì è partito tutto. Bene, bene, e quindi a questo punto, c'è una domanda che ti devo fare per forza, ovvero, come è stato il primo concerto con gli Exilia, che appunto non è stato neanche a casa tua, ma dall'altra parte del mondo, quindi c'è. Guarda, se c'è del tempo ti racconto di quegli aneddoti, allora, il primo, beh, allora, intanto, vabbè, io ho viaggiato col chitarrista dell'epoca, eravamo arrivati giù, sbarco a Tampa, cioè io sono, America, film americani, musica, eccetera, quindi, sbarco lì, e dico, madonna, esiste veramente, cazzo, e non ci credevo, capito, ero completamente vergine sotto ogni aspetto, su questa coccera, non avevo mai girato, soprattutto anche per musica, ma non avevo mai girato, non ero mai andato in America, avevo 23 anni, 24, sbarco, già guardo il posto e dico, madonna, che figata, vabbè, vengono, ci vengono a prendere col bus, ci portano all'hotel, a residence che era, ok, giorno dopo si va, ed eravamo a suonare lì a Tampa, cazzo, adesso il nome del posto, non me lo ricordo più, però era una roba, tipo, un anfiteatro, un qualcosa del genere, avevo una capienza, se non ricordo male, di, di 3.000 persone, 3.000, 4.000 persone, arriviamo nel posto, e già c'erano i drawing pool, che facevano il check, e per me era una cosa, incredibile, cioè, nel senso, sto vivendo veramente qui, cioè, è un figo, cioè, per uno che, sai, si è sempre ascoltato le canzoncine, sul CD, eccetera, te li ritrovi lì, che tu ci devi suonare prima, è una figata, vado lì, mondo dei balocchi, allora, prepariamo, però, cioè, apro una parentesi, a me ho fatto, una sessione di prove, del tour, da paura, cioè, quindi, anche se arrivava uno, che mi sparava, io continuavo a suonare, cioè, sapevo tutto, per filo e per segno, avevamo continuato, ma proprio un lavoro estenuante, cioè, col produttore, tutti i giorni, solo musicisti, senza mascia, qui la cassa, non così, qui bisogna fare quello, ricordatelo, ripetiamo quello, no, qui apriamo così, qui, la dinamica del crescendo, più così, più cosà, eccetera, eccetera, e quindi, proprio straight, capito, cioè, seguiti proprio a canna, e quindi sono arrivato lì, che sotto quell'aspetto lì, ero super tranquillo, cioè, la cosa che mi poteva fregare, era l'emozione, l'unica cosa, cioè, ok, e, vabbè, soundcheck, tutto a posto, arriva il momento, che tocca a noi, tipo, venti minuti prima, avevo un'arsura in bocca, che non hai un'idea, cioè, non, tipo, come se ti sei mangiato, 60.000 patatine, mega salate, cioè, avevo le labbra tutte, che non ci stavo dentro, e, basta, poi, da lì, si è partiti, abbiamo iniziato a suonare, e la prima sensazione che ho avuto, attaccato Masha a cantare, oh, ma sai che non mi era mai successa questa cosa, cioè, sembrava di sentire nel tuo in-ear, come se stavi ascoltando il disco, il CD, cioè, sentivi quella pulizia, quella precisione della voce, tutto uguale, quella carica, cioè, puoi vederla davanti, eccetera, che, una figata, cioè, dopo una volta che è partito tutto, è stato veramente bellissimo, mondiale, lo show è andato molto bene, e, quindi, ero gasato a canna, cioè, tu pensa che, finito di suonare, io neanche sapevo che c'era il merch, cioè, non me l'ero neanche ricordato, capito, cioè, mi sono venuto a chiamare dopo per dire, guarda che c'è da firmare gli autografi, c'è da fare le cose, eccetera, io ero talmente contento, cioè, per dirti che, sono uscito, ho preso il telefono in mano, ragazzi, è andata bene, c'ero, ho chiamato gli amici in Italia, capito, c'è roba così, e, piccolo aneddoto su questo, della prima data, prima di partire, il produttore fa, ragazzi, gli sponsor, ci hanno inviato tutti gli strumenti, mi raccomando, non perdete niente, se no poi, ci sono casini, va bene, va bene, esco fuori, facciamo per caricare il bus, anzi, no, neanche prima di caricare il bus, perché poi è successa un'altra cosa, però non mi dilungo troppo, ti dico questa, poi basta, vai, vai, tanto questo è il tuo spazio, per raccontare tutti gli aneddoti che vuoi, anzi, ero lì fuori, c'è tu, stai tu qua, curare gli strumenti, sì, sì, va bene, io ero lì contento, mi sto bevendo la mia birra, fumando la sigaretta, guardo gli strumenti, cazzo, butto l'occhio, non vedo il tappeto della batteria, giù, da vedere, che adesso è la prima data, qua mi segano già, che perdo qualcosa, guardo, 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 non c'è il tappeto, porca puttana, l'ho perso, nel frattempo, che dicevo questa cosa qua, vedo uscire fuori un backliner del drawing pool, con un tappeto, ma questo gigante, cioè, sono venuto dopo a scoprire, che faceva parte delle squat, eccetera, e tutto, gigantissimo, col tappeto in mano, papà papà, che cammina, vado lì da lui, con un inglese super maccaronico, e gli faccio, questo è mio, me lo devi ridare, gli ho detto, perché l'ho dimenticato, lui, no, no, non è tuo, guarda che è nostro, no, guarda qua, non c'è il tappeto, questo è mio, perché lui mi guarda fisso, silenzio un secondo, mi fa, aspetta, ti aiuto io, te lo vado dentro, l'ho visto io, entra dentro, mi tira fuori il tappeto, gli faccio, minchia, grazie, nell'andare nel tour, avanti, una sera eravamo sul tour bus, e mi fa, ma lo sai perché quel giorno non ti ho menaccio? Perché? E' meno male, perché se mi tiravo un cazzotto quello lì, ero finito subito, fa, perché mi ricordavi me da piccolino nel Bronx, cavolo, sei proprio un terrone, a posto, meno male che almeno, e quindi, niente, insomma, la prima data è stata così per me. Beh, è bello però, cavolo, cioè, ecco, vedi, questo è proprio perché mi piace fare questo tipo di interviste con gli aneddoti, perché sono queste le cose che voglio che, che vengano fuori, cioè il vero della musica, delle storie. Sì, sai, puoi dirti, no, è andato tutto bene, perché il groove, cioè, non è tanto quella cosa lì, perché alla fine, cioè, se vai a fare determinate cose, qualcosina la saprei fare, perché se no, cioè, venirti a dire, no, però sai, è così, lì è andata bene, mi sentivo un po' legato, un po' così, primo, per tutta la, per la preparazione che c'era stata, era praticamente impossibile, cioè, che succedesse questa cosa qua, ma, cioè, quello che mi è rimasto a me, sono veramente, guarda, ti sorrido adesso ancora a parlarne, cioè, nel senso, è proprio bello, cioè, dei ricordi della Madonna, cioè, quelle lì sono, ne avrei a fracche, cioè, proprio su queste cose qua. No, vabbè, ma guarda, si vede solo a guardare la faccia, mentre lo racconti, che proprio, cioè, ti è rimasto impressi il ricordo, di quella che è stata poi, un'esperienza che sicuramente è stata incredibile. Sì, bellissimo, vuoi anche perché è stata la prima, cioè, che ho fatto, eccetera, però è stata veramente, tonante, cioè, veramente bella. C'è ragione. Sì, 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 su questo aspetto qua, mi reputo fortunato, cioè, sono sempre stato... Guarda, di quel tour, oltre agli aneddoti, che vabbè, sono tantissimi, sicuramente ci si potrebbe fare un libro, però c'è una domanda precisa che ti voglio fare. Saranno stati tutti i concerti incredibili, ma sicuramente ce ne deve essere stato uno in particolare, che proprio, cioè, è stato proprio come la torta di compleanno, cioè, che dici, questo è stato lo show migliore del tour, per un motivo X. Ma, lo show migliore, intendi dire come ricordo, cioè, di cose, di come è andato lo show, di... Sì, perché, cioè, nel senso, tanto sicuramente, a livello tecnico, di esecuzione, con la preparazione che avevate, e poi comunque, andando avanti, data dopo data, a un certo punto, suoni che sei una macchina, perché... Esatto, esatto. Lo fai tutti i giorni, e entri proprio in quel tipo di... di mood, cioè, ti svegli, sai che la sera suoni, la scaletta è sempre quella. Sì, bravissimo. Il corpo suona in automatico, cioè, tu potresti quasi suonare e chiacchierare con una persona nel mente, perché tanto... Esatto. Lo sai. È proprio quello che intendevo prima. quello che mi interessa è proprio a livello di feedback, che ne so, col pubblico, una serie in cui il pubblico era particolarmente ricettivo, in cui tu proprio lo hai vissuto proprio bene, cioè, nel senso, c'è stato un qualcosa che ti ha fatto dire, cacchio, questo è lo show migliore del tour. Beh, allora, eh, uh, allora, ce ne sono stati due, per due motivi diversi. Allora, uno, eh, quello che mi stai chiedendo tu del pubblico, eccetera, del feedback, delle vibe che c'erano sul palco, è tutto, magari, più speciale rispetto ad altri, ad altri show che abbiamo fatto, eh, è stato al Paramount di, di New York, che mi sembra che c'è qualcosa su YouTube, tipo una drum cam o qualcosa, e lì è stato veramente bello, ho dei bei ricordi, eh, perché nel suonare c'era, cioè, vedevi proprio questo anfiteatro, cazzo che saltava, che faceva, cioè, vedevi questa ondata di persone che seguiva, cioè, proprio l'andamento dei pezzi, poi, vuoi che era a metà del tour, più o meno, la promozione era partita a canna, anche sulle radio, eccetera, e quindi arrivavano già le persone, la cosa che ti faceva strano, oltreoceano, arrivavano le persone che sapevano le canzoni, capito? E, perché tu sai, va bene, gli exili hanno, hanno spopolato, soprattutto nel nord Europa, eh, però, oltreoceano, ovviamente sì, hai la tua nicchia di fan che c'erano lì, però, non è casa tua, capito? Cioè, è tutto un territorio ancora da esplorare, e vedere questa cosa qui, mi ha gasato un casino, cioè, nel senso, anche sul palco c'era un, allora, l'alchimia c'è sempre, anche tu questa cosa la saprai sicuramente suonando, io sono dell'idea che ci siano davanti 20 persone, che ce ne siano 15.000, come al Bocum, eccetera, cioè, tu la tua performance la devi fare, perché, perché le 20 persone che hanno comprato il biglietto, cioè, quello vogliono vedere, quello si meritano, che devono vedere, ok? Però, diciamo che, se hai davanti, adesso non voglio dire una minchiata, però, sì, eravamo sempre più o meno su quelle cifre lì, nelle dati in America, tra i 3.000 e le 5.000 persone, oh, nicchia, è una figata, cioè, poi, oltretutto, che vedi proprio, che saltano, che hanno l'onda, che prendono il, che prendono il giro della band, cioè, che vieni capito, anche perché poi, gli exili hanno sempre testi, sempre avuto testi importanti, cioè, Masch è molto profonda, nel scrivere le canzoni e tutto, e quando tu vai lì, cioè, ti capiscono perfettamente, e quindi entravano in sintonia con il, con il meaning della canzone, con il significato, e quindi vedevi proprio che, sia dalla canzone più tirata, che dalla canzone, con più dinamiche, quindi che andavano un po' più giù, che era più, più down, recepivano, ti capivano perfettamente, e quindi vedevi proprio che gli arrivava il messaggio, e quello era una figata, lì è stato veramente, veramente figo, cioè, si riusciva a percepire questa cosa, anche sul palco, mentre il secondo, bello, ricordo di quel tour lì, è stata l'ultima data, perché che cosa è successo, sono salite tutte le band, ok, c'erano, vabbè, i drawing pool, come headliner, il batterista, e anche lì, mi sembra che ci sono, ci sono i video su YouTube, abbiamo suonato due batterie, a un certo punto, bam, sono scoppiati, tipo i coriandoli, i fuochi d'artificio, così, di quelli finti, è venuto giù il telone della batteria, dietro di me, e hanno incominciato a suonare anche loro, che facevamo il groove insieme, sono venuti tutti sopra, a sparare i coriandoli, mentre suonavamo, le stelle filanti, e lì è stato veramente bello, ci siamo divertiti, è stato veramente figo. Bello, erano queste le cose che volevo sentire. Questi sono i due che mi sono rimasti di quel tour, nel cuore, insomma, diciamo. Bene, bene, e questi, ripeto, sono i dettagli che mi interessano di più, perché poi, sinceramente, chiederti come accordavi la batteria in tour, non mi interessa proprio. No, anche perché sono abbastanza monotono, è sempre la stessa cosa, quella che faccio io, cioè, nel senso non... Esatto. Che se vuoi, vi racconto anche quello, però, secondo me, questo è più divertente. Guarda, se proprio ti devo chiedere qualcosa, di interessante, secondo me, visto che poi, in 13 anni con gli Exilia, oltre che l'aspetto live, c'è anche l'aspetto in studio, mi interessa piuttosto chiederti, come lavori, per esempio, agli arrangiamenti dei brani, e come ti prepari a quelle che sono, le sessioni di registrazione in studio, perché poi si sa che in studio più arrivi preparato e migliore sarà il risultato. allora, allora, lavorare in studio con gli Exilia è una via di mezzo tra andare a registrare il disco con la tua band e andare a fare una session. Ok? È proprio spaccato al 50%, perché noi andiamo a lavorare sempre a Muster, al nord della Germania, quasi in Olanda, al Principal Studio, dal primo produttore degli Exilia, Jorgen Brecht, dove hanno fatto Guano Apes in extremo, compagnia bella, H-Blocks, studio della Madonna, cioè la prima volta che sono andato ho detto, micchia, anche lì, cioè sono arrivato e ho detto, la Madonna, cioè è proprio bello, cioè si sta bene, poi lui è un batterista e quindi proprio ci va da nozze. Però detto questo, la preparazione, allora, diciamo che noi facciamo sempre delle preproduzioni qua a casa, cioè proprio digitalmente sul computer, io scrivo le batterie, ti parlo per la mia parte ovviamente, poi ci sono tutta l'altra parte di Masha, il chitarrista, da Wolf e tutto che preparano delle basi e inviamo su al produttore, ok? Fatto questo, noi lavoriamo sempre al 50% con lui, anche perché sempre, secondo il mio modesto parere, cioè se tu dici di avere un produttore, cioè vuol dire che tu credi in questa persona, sia a livello personale che come gusto musicale, quindi ti devi anche affidare, se no, vai, ti noleggi uno studio, ti fai tu le tue cose e basta, ok? Quindi che cosa succede? Noi mandiamo su i nostri provini, le nostre pre, e lui incomincia a scandagliare, prova a vedere, magari gli dice questo mi piacerebbe così, questo io lo girerei in questa maniera, in quella, quell'altra ti manda indietro delle bozze, sempre digitali, fatte da lui, però rimane sempre tutto un po' grezzo, cioè non arrivi su con la parte che tu dici, ok, questo è quello che devo andare a fare, ok? Quindi, diciamo, la parte che tu vai registrare con la tua band è questa, è la parte delle pre. Quando poi arriviamo effettivamente su in studio per il lavoro, c'è sempre una prima fase di meeting con lui e il suo collaboratore, Vince, cioè che collaboratore, non è mica tanto, cioè sono soci, sono due produttori proprio loro, c'è il meeting sempre insieme con loro e poi noi continuiamo a lavorare con lui, con gli org, dove lì si incominciano a definire un attimino di più i blocchi delle canzoni, ok? Cioè tu dici questa, allora sarà così, A, B, C, questa qua, quell'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la mia preparazione batteristica non è tanto impararmi pezzi, ma faccio sempre queste cose qua. Lavoro molto prima, almeno incomincio a prepararmi un mese prima perché, ahimè, tra l'accademia, le lezioni, il lavoro, eccetera, eccetera, tutte le varie cose che uno deve fare, la famiglia, non è che ho tutto questo tempo di dedicarmi allo studio, ok? Cioè, quindi cerco sempre di mantenermi con una mia routine, però non è la routine di quando avevo 18 anni che mi chiudevo sette ore a fare le cose, cioè, è una routine completamente diversa, è giusto, cioè, è un sostentamento per tenere vivo quello che ho studiato prima, insomma, diciamo. E quindi, da un mesetto prima cerco di ritagliarmi sempre un po' più di tempo per fare cosa? Per avere fresche le indipendenze, le dinamiche, gli unisoni e la tecnica nelle mani. Stop, basta, io arrivo lì che sono fresco su questo. Poi succede sempre che si preparano i blocchi, io al 90% sono sempre il primo a iniziare a registrare, mi chiudo la notte a studiare, giù, lui ti lascia tutto aperto, puoi fare quello che vuoi, eccetera, mi scrivo le mie chart e incomincio a mettere giù le mie idee. Parte la sessione e da lì io incomincio a registrare, eccetera, e mi dice ok, qua preferirei che facessi un fill in questa maniera, qui così, qua il groove mi piace, portalo così, però magari spostalo di lì, mi piacerebbe che tu qua cresci, però devi tenere comunque il charleston in levare per dare quella sensazione un po' dense, diciamo, per tenere il beat e basta. E quindi mi serve avere fresche le cose, capito, per poter rispondere velocemente, anche perché i budget che ci sono oggi non sono i budget di una volta, quindi non è che stai in studio un mese e mezzo, cioè stai in studio due settimane, una settimana, e quindi più, diciamo che è brutto da dirsi, la qualità è quella che deve sempre prevalere, però c'è bisogno acquagliare il prima possibile, insomma, diciamo, per star dentro i budget. Quindi non so se ti ho risposto alla domanda che mi hai detto tu, però la mia preparazione è questa. Bene, bene, no, risposta più che esostiva, ottima. Ok, a questo punto invece te ne stavo parlando prima nel backstage, prima di iniziare l'intervista, praticamente quattro giorni fa avete pubblicato un nuovo singolo con gli exili. Esatto, sì, Like an Avalanche. Esatto, e prima di condividerlo qui sullo schermo e vederlo con tutti i nostri amici all'ascolto ti volevo chiedere se hai qualche qualche chicca, qualche dettaglio che ci puoi dire su quello che appunto è il nuovo lavoro degli exilia, se ci sarà poi un tour promozionale, delle cose, insomma, un spazio promozionale sulle prossime mosse della band. Ok, beh, noi adesso stiamo facendo il nostro tour di celebrazione di Unleashed, ok, il primo, non è stato proprio il primo disco ma è stato il disco che ha fatto il botto degli exilia nel 2004 e infatti è Unleashed XX dove ci sono dentro questi due inediti, scusami, cioè Like an Avalanche e l'altro che è Sea of Threes se non mi sbaglio, messi dentro con i vecchi brani rimasterizzati, ok? Ok. E quindi adesso fino a tutta la fine del 2024 stiamo portando in giro uno show speciale proprio per celebrare il primo disco. Dopodiché tra un po' ci sarà la seconda, abbiamo già registrato nuova roba, la prima parte l'abbiamo già fatta perché nel 2025 vogliamo uscire con un nuovo disco. Ok. Ok, e quindi ci sarà una seconda tranche di registrazione e ci sono già belle cose per il 2025. Stanno già uscendo fuori belle cose per il 2025, le stiamo già abbucando adesso. Bene, bene. Ottimo, ottimo. Più di questo ancora non ho altre certezze, diciamo. Non so. Bene, bene. intanto qui sotto ragazzi vi ho messo il link della pagina Facebook degli Exilia così se li volete seguire ve la trovate qua in sovraimpressione. E a questo punto adesso come promesso io condivido e do modo a tutti di vedere quello che è appunto il video di Like and Avalanche degli Exilia. Ce l'abbiamo e a questo punto ce lo vediamo iscriviti al canale 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 Sì Sì Wow grazie bella botta ragazzi che pezzo grazie bello bello sono molto felice super accattivante di tornello di resta in testa subito e da batterista non ho potuto non apprezzare i suoni della batteria grossi da Yorg quello è è veramente lui è fighissimo cioè ti ha la microfona fa così bam ti partono i cannoni subito appena incominci a suonare cioè è veramente top lui su questa cosa è mondiale è fighissimo perché adesso che lo stavamo ascoltando io ti premetto l'ho ascoltato adesso per la prima volta al brano perché avevo già trovato il video ma mi volevo togliere il gusto di ascoltarlo per la prima volta in diretta wow che figo e la cosa bella è che cassa e rullo in particolare sono enormi che ultimamente visto sono quei suoni molto compressi piccoli che sono ultra definiti ma piccoli invece questi suoni che danno proprio il senso dei fusti power esatto a questa botta che dici sì questa è la batteria spacca esterno quella bella proprio esatto esatto è bello beh allora ti dico come strumentazione da lui uso sempre una dv collector da 24 come cassa e i fusti sono mape no scusa sono di drum di drum adesso non mi ricordo la serie della di drum però sono fighi cioè suonano veramente bene però si sente che la cassa è un 24 perché è proprio un cannone sì sì è proprio bella bella panciuta e e poi lui è ottimo anche perché eh adesso entro in un mondo un po' particolare quello dei trigger nella musica di oggi cioè eh da che tu fai metal pop cioè forse sono nel jazz in quelle cose lì insomma nello swing e tutto non c'è questo questo trend però per come la gente vuole ascoltare la musica anche dal vivo cioè che cercano sempre di più la produzione ok cioè è bello sentire la la band live che suona ma le orecchie sono talmente abituate a stare sui social a sentire le cose che anche quando ti ritrovano davanti c'è 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 stata questa com'è che si può dire questo eh questa abitudine a sentire dei suoni fatti in una certa maniera cioè che tu ti aspetti quasi il pari del disco ok però lui su questo è strafigo perché che infatti dopo io lo metto nei setup quando quando andiamo a fare gli show usa il trigger non in sostituzione ok quindi non è che tu senti il suono del trigger lui ti dà ti lascia il suono quello che infatti tu hai percepito eh il suono grosso cioè il suono vivo della cassa quello acustico ma ti miscela dentro dei suonini adesso vai a capire cioè bisognerebbe chiedere a lui che cosa ci mette dietro e tutto quanto che ti compattano il tutto capito che te lo rendono fruibile per i giorni d'oggi cioè non ha il sound primi 2000 ok ha il sound di oggi pur mantenendo l'aspetto acustico cioè non so se sono riuscito a spiegarmi o forse sono andato un po' troppo e quindi lui su questo è veramente figo cioè i suoni di batteria che ho da lui quando mi è capitato magari andare a fare qualcos'altro in giro ovviamente non in studi così fighi però comunque studi che che lavorano bene ecco il suono lì non ce l'hai non lo riesci a ottenere cioè lui ce l'ha proprio in testa cioè potresti cambiargli anche il banco le cose eccetera lui sempre quello ti tira fuori ah beh sì questi insomma sono i trucchi del mestiere di questi questi lupi di mare delle produzioni che a fine lo sanno solo loro come fanno uscire quel suono però sì vai a capire cioè non lo so lui mi dice no lo faccio così io faccio il paradido gli ho detto tu vedi vedi te a me piace cioè a me basta che tu fallo suonare esatto cioè nel senso a me garba di brutto questa cosa quindi però ormai c'è talmente confidenza ci si conosce eccetera che non c'è neanche più da e poi ti ripeto il fatto di affidarsi a una persona cioè io non mi metto neanche a discutere su chi sono io per andare a dire a lui cioè che ha fatto anche le batterie degli H-Blocks in extremo compagnia bella cosa gli devo dire io cioè infatti il risultato poi si sente assolutamente invece a questo punto senti volevo chiederti tornando diciamo all'aspetto live tu hai un warm up particolare che fai prima del concerto che se a volte ci sono gli batteristi che hanno un certo tipo di modo di riscaldarsi prepararsi allo show altri invece magari non lo fanno altri fanno un'altra cosa proprio allora ti dico non è sicuramente quello canonico come potrebbe immaginare qualcuno perché quando si va in giro si è sempre di corsa poi noi viaggiamo sempre con i bimbi quindi fino all'ultimo cerchiamo di averli con noi eccetera stiamo lì è tutto succede sempre qualche problema non va mai tutto liscio come l'olio poi io sono uno abbastanza che nervoso su queste cose cioè se una roba non va come deve andare mi parte subito che è sbagliata questa cosa però insomma io sono fatto così non c'è niente da fare allora i miei warm up sono sempre mi porto dietro un paddino allora per i piedi adesso non mi ricordo l'insegnante che me l'aveva che l'aveva detto in questa masterclass che non c'entrava neanche niente col metal non me lo ricordo però lui mi faceva fare questo esercizio vediamo se lo vedete coi piedi giro la telecamera cioè muovi le caviglie com'è che si può dire in senso opposto ok con il destro alzi la punta con il sinistro alzi il tallone e viceversa ok lentamente e tu fai questo lavoro ok e così incomincia a sentire tutto caldo qua dopo un po' che lo fai si si scaldi in pratica di bia polpaccio esatto esatto faccio questo movimento qua ma proprio nella setezza non è che devi mettere di fare tutte queste cose cioè tranquillo ti metti lì incominci a fare questo due tre minuti nel frattempo sopra o mi faccio tutti i didle però col flam al posto dell'accento singolo metto il flam perché ho notato che mi scioglio molto i polsi lavorare col flam e molte volte mi porto dietro delle spazzole per fare questa cosa perché così ho anche meno rimbalzo e devo proprio accentuare il movimento sempre lento sono tutte cose che faccio in maniera lenta senza metronomo e nulla cioè è proprio puro movimento e mentre le ultime cose perché tornando a Sergio è stato ospite nel nostro nella data di inaugurazione insomma di questo tour ha suonato un brano con gli Exilia eravamo nel backstage mi fa oh vieni che ti insegno c'è sempre da imparare allora aspetta che vi faccio vedere prendo le bacchette fantastico ragazzi cosa abbiamo anche le le spiegazioni in diretta allora e questo e questo gliel'aveva insegnato pensate ai tempi Lucchini allora prendi le bacchette aspetta vediamo eh che adesso sono abbastanza imbecille su questa roba qua delle prospettive ok allora se è così incominci in questa maniera e porti la mano sinistra sotto il tuo gomito esci porti la mano destra sotto l'altro e torni su e fai tutto un movimento sempre lentamente ma circolare così ah ok si si ok fai questo adesso ti sembra tutto un po' storto qua dalla telecamera sono anche seduto però in teoria dopo ti viene fuori tutto questo movimento qua e anche qua senti tutto il caldo che ti comincia a venire fuori qua proprio in scioltezza poi invece altra cosa prendi le punte delle bacchette e fai questo con il peso del sedere delle bacchette ti sciogli un po' con la sinistra un po' con la destra e via rock and roll si parte basta questi sono i warm up che faccio io prima di di salire sul palco e oltretutto questi di recente perché me li ha spiegati non li sapevo di salito facevo sempre il flemma di idol e quello con i piedi che ti ho fatto vedere tempo sempre permettendo eh sì perché poi a volte il tempo non c'è quindi in quel caso devi solo rilassarti e andare sul palco e andare basta e sperare che non ti ritrovi il pollice così dopo la quarta misura che ti rimane sulla bacchetta e dici adesso per tutta la prima canzone ti rimane il pollice così però vabbè dopo da lì entra in gioco l'esperienza capito del primo brano farlo in una determinata maniera se non ti sei scaldato e dopo comincia ad andare ma poi fa parte del gioco e poi dai se ci pensi quante volte nella vita è capitato di ti metti a suonare sulla batteria perché magari c'è un momento che voglia di cazzeggiare stai a freddo e magari ti metti e stai tipo 40 minuti a suonare e spingi anche che non ti viene neanche scaldato e va bene quindi spesso a volte anche nella questione psicologica ahimè purtroppo adesso non riesco più tanto a fare questa cosa che mi manca tantissimo però la facevo cioè che mi mettevo sulla batteria e mi mettevo lì a fare purtroppo adesso non riesco a fare questa cosa cioè mi manca proprio il tempo ed è una cosa che mi piacerebbe molto fare ma perché come ti ripeto ahimè ho sempre la testa eh com'è che si può dire per quanto è una passione la miro sempre a qualcosa cioè non riesco proprio a cioè va a finire che dopo mi metta a fare un qualcosa che mi serve cioè parto cazzeggiando e poi dico no e ritorno lì vabbè ma diciamo diventa quasi un gioco forza perché se poi comunque hai degli impegni a stretto o largo giro che siano il fatto di voler essere sempre preparato poi ti porta a lavorare in quel modo guarda a me è capitato anche con tanti batteristi con cui ho lavorato che ho portato qui con degli amici per organizzare delle cliniche quando poi ci parlavi nel privato ma tu diciamo come studi eh ma sai adesso devo preparare un tour in Sud America di 30 date io sto facendo solo la scaletta di quello poi quando torno devo fare delle cliniche quindi preparerò solo quello che devo fare per le cliniche in realtà studi sempre esatto non è che purtroppo ecco passatemi il termine non studi più con la verve creativa ma con la verve lavorativa perché poi è ovvio bravo è quello se hai un programma didattico da presentare ad una cliniche tu quello lo devi fare bene c'è comunque qualcuno che vuole soffrire di un servizio e il servizio sei tu stessa cosa io ricordo esatto la una clinica di Thomas Lang che fece qui in zona Roma e lui diceva proprio ragazzi cioè quando studiate dobbiamo anche capire perché studiate lui disse se tu stai preparando delle date con la tua band perché che ne so devi suonare tutti i weekend tu devi studiare per fare in modo che tutti i weekend sali sul palco preparato e la scaletta non deve subire nessun tipo di variazione o danno perché te non sei preparato non conta quello che ti piace o non ti piace cioè devi preparare una scaletta di musica dance di due ore vorrei dire che tu devi essere in grado per due ore di essere una drum machine che fa ballare persone esatto 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 il concetto è il concetto è quello lì ecco diciamo e quindi perdi un po' esatto perdi un po' il fatto di dire del cazzeggio o quelle cose lì cioè va a finire che dopo sei sempre mirato a fare qualcosa proprio per i tempi stretti che uno ha tra le mille cose che deve fare il suddividersi in giro ti ritrovi lì dici devo fare questa cosa qua che però poi alla fine cioè nel senso siccome è quello che ti piace cioè non è che lo fai malavoglio è solo che esatto esatto oltretutto Thomas Lang c'è visto dal vivo a due centimetri è veramente pazzesco io l'ho visto qua forse saranno stati praticamente gli stessi anni qua a Milano era passato al vecchio per Cashion Village adesso ha cambiato posto eccetera mica mi ero avvicinato per vedere la tecnica dei piedi anche lì non mi sembrava vero guardavo diceva la madonna gente smacellata cioè che guardavo e diceva sta montagna dentro sta batteria no poi questo c'è un'escursione sonora che è pazzesco io ricordo durante il transuolo quando faceva determinati passaggi in poi parte la faceva certi file sembrava quasi che si spostavano sai tipo gli sciami di api no esatto bestiale proprio quel volume nel senso perché poi non è tanto il fare la figura veloce e avere quel volume esatto precisione attacco mondiale infatti è uno la capisci tante cose micchia ma di brutto anche sì sì ed è quello il fatto che poi ci si può sbagliare perché tanti pensano però quelli studiano in maniera più divertente in realtà no devono studiare per portare sempre quel livello esatto beh lui raccontava che ogni mattina anche se lui va in giro eccetera tipo vabbè poi devi essere a quel livello lì chiaramente se vai negli hotel eccetera si fa sempre trovare la batteria sotto in una stanzetta non so dove e lui ha detto che si fa sempre che l'ha dato anche come consiglio ai ragazzi che c'erano mezz'oretta di pop al giorno di suonare pop perché qualsiasi genere che tu stia facendo tieni sempre il il lato musicale della batteria e quindi lui non so si suonava sempre Beatles piuttosto che le nuove uscite pop del momento mezz'oretta ci gemmava sopra e e basta e questo l'ha dato come consiglio proprio per per dire mantenere mantenere il fatto del della musicalità anche perché facessi anche per chi fa genere estremi eccetera si si no assolutamente cioè il fatto di mantenere un certo tipo di focus su creatività e groove è sicuramente ottimo poi insomma consigliato da uno del livello suo sicuramente va va preso in considerazione esatto 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 ma volevo salutare Marco visto che ha mandato un messaggio Zambruni si 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 ne ha mandato un messaggio tanto Marco tra tra qualche giorno insomma tempo che io sbrigo delle faccende sarà ospite pure lì quasi schermi perché ci deve raccontare un po' di cose su sulla camp che è stato fatto da poco in Grecia grande super e ci dovrà raccontare un po' di cose super super bene bene ok Marco guarda qua ritende scherzato siamo arrivati ad un'ora di tempo che è proprio madonna è vero qua sopra che è proprio diciamo è passata è passata veloce oh mi sembra due minuti ti volevo ringraziare perché è stata una chiacchierata super scorrevole piena di racconti fighissimi ma grazie a te per avermi invitato no no è stato veramente veramente un piacere anche perché ecco come ti dicevo prima questi mesi ho ripreso finalmente a fare le queste dirette con una certa regola di test sono contento di aver pizzicato piano piano tanti validissimi batteristi della scena italiana che da tanto volevo scambiarci quattro chiacchiere e come sempre la dimostrazione lo voglio dire a tutti quelli che ci seguono in Italia abbiamo tanti tanti batteristi fortissimi che suonano con delle band veramente valide che portano il tricolore in giro solo che le riviste grosse non se li filano mannaggia a voi quindi io sto qui e faccio quello che non fate voi quando in realtà dovreste dargli più spazi a questa gente odiatemi ma è la verità mannaggia a voi grande ecco quindi detto questo ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito vi ricordo che l'intervista rimane salvata in podcast sia su Drumworld che sul mio canale YouTube qui sotto che è rimasto in sovraimpressione il canale Facebook degli Exilia l'hai trovato ovviamente anche su Instagram TikTok YouTube li potete seguire ovunque seguiteli non è un invito è una minaccia seguiteli è una minaccia cioè suonava come una minaccia seguiteli esatto e ultimo ma non meno importante ringrazio te Mark per la disponibilità per questa bellissima ghiacchierata e soprattutto spero avremo modo in futuro anche di beccarci di persona madonna lo spero anch'io molto volentieri teniamoci in contatto e facciamo sì che succeda assolutamente molto volentieri e ti ringrazio tanto per ancora una volta per avermi invitato è stato veramente un piacere e come ti dicevo prima il lavoro che che svolgi è una cosa secondo me molto bella e ecco mi scappa la parola te l'ho detta prima oh madonna è come si dice è di rilievo per la società ecco non mi viene in mente adesso la parola giusta l'aggettivo ma è molto bella soprattutto per i ragazzi a prescindere cioè proprio il messaggio la divulgazione ecco fai veramente un ottimo lavoro di divulgazione che è sempre una bella cosa bravissimo quindi ti faccio i miei complimenti grazie davvero grazie davvero come dicevo prima lo faccio proprio perché secondo me sono tanti musicisti in gamba in giro e soprattutto poter fare quattro chiacchiere con tanti stima di colleghi che se ne vanno in giro per il mondo e che hanno tante cose belle da raccontare grazie al loro punto di vista personale meritano meditate appunto uno spazio in cui qualcuno vi possa ascoltare e scoprire perché poi la mia speranza è è quella poi per tanti altri batteristi non me ne vogliano ci sono tante altre riviste più grandi che già gli danno spazio quindi questo finché posso lo manterrò sempre come uno spazio diciamo più underground che però spero che cresca sempre di più quindi come sempre veramente ringrazio tutte le persone che da quando ho creato Drumward mi seguono tutti i batteristi che ho ospitato e nella fattispecie per questa bellissima serata voglio ringraziare ancora te Mark grazie e insomma ti auguro tutto il meglio per quelle che stanno alle prossime tappe degli exili e soprattutto super grazie mille dai e col disco nuovo buonanotte a tutti ragazzi ciao ciao buonanotte grazie a tutti grazie a tutti